Poche emozioni e sussulti decisamente limitati in un pari a reti bianche, degno specchio di una partita vissuta senza mai avere la sensazione che le cose potessero cambiare. Nuova torte e teste e civita vecchia non si fanno male limitandosi a vicenda in quello che poteva considerarsi il big match di giornata, ma che alla fine non ha visto né vinti né tantomeno vincitori. Eppure l'avvio sembra poter regalare una trama scoppiettante. Pronti via e al nono Caprioli cerca un diagonale che diventa assist, ma sul quale Granillo non riesce a superare il tuffo di Paniccia. Uno squillo che chiama alla reazione i neri azzurri, perché sul ribaltamento di campo è fatarella a mettere sulla testa di Fogli un pallone da spingere solamente in rete, ma che il numero 7 spreca depositando oltre la traversa. Due brividi sulla schiena in una gara che torna però a ballare sul filo dell'equilibrio, se non addirittura della noia. Ad entrambe le squadre manca quel guizzo che Cibelli prova a trovare al 26esimo, giocando da terra un pallone sul quale è poi decisiva la chiusura di Caroletti su Pietranera. Si va a riposo con le porte inviolate e nella ripresa la musica, non sembra cambiare, la nuova torte e teste alza il ritmo, cerca di scuotersi, ma lì davanti c'è poca freddezza e velocità per bucare un Civitavecchia che regge bene e anzi al 17esimo per poco non colpisce. Sulla punizione di Conforti, Palicci va a vuoto, infortunandosi anche nel contatto successivo e Cerroni ci mette la testa, il pallone scavalca tutti, ma non la base del palo su cui sbatte, lasciando immutato il risultato. Quel guizzo che stenta ad arrivare lo cerca allora Pokesci al 22esimo, mettendo dentro un cross sul quale Granillo non arriva in tempo, mentre nel finale Conforti imbuca bene Pietranera. Mattocci sbara la strada dei Nerazzurri verso il colpaccio, di fatto è l'ultima emozione, prima che in pieno recupero Granillo calci alto, una punizione potenzialmente invitante, ma spedita alta insieme ai tentativi finali di poter far saltare il banco. Resta invece tutto in mutato, senza gol e risultanze, un punto che smuove le classifiche di Guida e Rocchetti, lasciandoli sostanzialmente nelle zone alte di un girone dove adesso sono Accademia Calcio Roma e Orbe Devere a tentare una prima minifuga. Grazie a tutti.